L'esigenza di collegare le terre del Lago di Seu alla Ferrovia Milano-Vinezia era presente fin dal 1859. In quell'anno risale la proposta dell'ingegnere Angelo Felino Lue per la costruzione di una ferrovia a trazione equina che collegasse Brescia-Iseo. Fu solo agli inizi degli anni settanta dell'XX secolo che questa esigenza sembrò concretizzarsi, soprattutto in concerto con la costruzione della Treviglio Coccaglio, che Sfai si era impegnata a realizzare durante la stesura della Convenzione del 1865. I progetti valutati allo scopo erano due. Collegare Sarnico con Palazzolo sull'Oglio oppure Iseo con la stazione di Coccaglio. Il 22 marzo 1872-72 comuni della Val Camonica, del Lago di Iseo, della Bassa Bresciana e di Soresina e Soncino inviarono una petizione ai Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze per sollecitare la costruzione della Treviglio Coccaglio. Essi la giustificavano con l'esigenza di costruire due braccia ferroviarie che la completassero a nord e a sud. Esse erano l'Eseo Coccaglio e la Coccaglio Chiari Orzinuovi-Soncino-Soresina, che avrebbero favorito il collegamento tra Val Camonica e Cremonese, migliorando i trasporti commerciali fra le due terre. Il 4 agosto dello stesso anno, fu presentato alla giunta di Rovato un progetto e un preventivo dell'Eseo Rovato Coccaglio che prevedeva la costruzione di una stazione intermedia a Vettolino e il possibile prolungamento da Rovato verso Soresina e il municipio di Brescia, che era stato tra gli aderenti della petizione per la Treviglio Coccaglio, il 10 agosto fece presentare un progetto alternativo all'Eseo Coccaglio. La ferrovia a scartamento ridotto Brescia-Eseo lo studio, sviluppato dall'ingegner Ravelli, prevedeva di ridurre al minimo i costi dell'infrastruttura, affiancandola a strade già esistenti, dotandola di poche fermate in Franciacorta e facendola passare a Provezze per girare il Colle Zura nel progetto, sebbene bocciato nei mesi successivi, dimostrò l'esistenza di un interesse alla costruzione di una ferrovia che collegasse Brescia al Sebino. Sorse un dibattito fra i fautori del collegamento a Coccaglio e di quello a Brescia che terminò in sostanza quando fu rilasciata la concessione per la costruzione della ferrovia Palazzolo Paratico, nella seconda metà del 1873 negli anni successivi, tuttavia, Iseo e Gabriele Rosa, un notabile di quella cittadina con diverse influenze a Roma, tentarono in ogni occasione pubblica di proporre la Iseo Coccaglio o in alternativa la Iseo Rovato. Agli inizi del febbraio 1874, la deputazione provinciale di Brescia approvò la costituzione di una commissione che si occupasse dello studio di nuove linee ferroviarie, in modo particolare la Brescia-Eseo. L'anno successivo, la provincia stanziò dei contributi per la costruzione di tre linee. La Brescia-Eseo, la Brescia-Parma e la Brescia-Salò-Trento. Salito Giuseppe Zanardelli al di Castero dei lavori pubblici nel primo governo de Pretis, 1876-1878, l'iter procedurale per la costruzione delle tre ferrovie fu agevolato. Il 15 maggio 1876, i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze stipularono una convenzione con l'ingegner Mantegazza e la Banca Popolare di Alessandria che riguardava la concessione per la costruzione e l'esercizio delle tre ferrovie. Nel settembre 1877, la concessione decadde, perché il concessionario non aveva rispettato il termine ultimo per il versamento di quanto pattuito per ottenerla, causando notevoli imbarazzi a Zanardelli e alla sinistra bresciana. Fu grazie all'approvazione della legge 29 luglio 1879, che il progetto della ferrovia Brescia-Eseo pote essere ripreso. Con l'intervento di Zanardelli e grazie all'iniziativa della deputazione di aumentare le elargizioni contributive per la sua costruzione, la linea fu inserita all'interno delle linee di terza categoria ed unita al progetto della Parma-Brescia, per via della sua breve lunghezza. Le province interessate, ovvero Parma, Brescia, Cremona e Mantova, chiesero la concessione per la sua costruzione e l'esercizio della stessa. La domanda fu però rigettata, perché le amministrazioni provinciali, in quanto enti morali, non potevano richiedere la concessione di ferrovia appartenenti alla terza categoria. Il governo si fece quindi carico della costruzione della ferrovia Franciacortina. La provincia di Brescia partecipò al finanziamento dei lavori sulla base della quota prevista per i contributi degli enti locali in proporzione al chilometraggio interessato sul suo territorio dell'intera Parma-Brescia-Eseo. I bandi di appalto uscirono nel 1881, mentre i lavori cominciarono l'anno successivo nel tratto d'Eseo a Provaglio e a gennaio del 1883 su quelli restanti. La linea, lunga quasi 24 chilometri, fu aperta il 30 maggio 1885 e inaugurata solennemente il 21 giugno alla presenza dell'onorevole Giuseppe Zanardelli che l'aveva appoggiata politicamente. Nel 1888 si conclusero lavori per collegare la stazione di Eseo al porto. La linea entrò nel novero delle ferrovie statali interessate dalla Convenzione del 1885. A seguito di quest'ultima, la Brescia-Eseo fu quindi inserita all'interno della rete adriatica e fu esercita da Società Italiana per le strade ferrate meridionali. L'interesse a prolungare la ferrovia in Val Camonica fu presente sia nella fase di progettazione sia in quella di costruzione della Brescia-Eseo. In particolare, nel 1882 fu presentato dagli ingegneri Damioli e Crespi il progetto di ferrovia Pisogni-Breno e Dolo a scartamento ridotto, su impulso di Giuseppe Tovini. Due anni dopo, l'ufficio tecnico della provincia di Brescia presentò un nuovo progetto, basato sullo studio di Damioli e Crespi, che prevedeva la costruzione di un Aiseo-Breno e Dolo a scartamento ordinario. Quest'ultima proposta fu presentata dalla Deputazione Provinciale al Governo allo scopo di ottenere il finanziamento nell'ambito della Legge 29 luglio 1879, numero 5002, ma senza risultato visto che in quel momento i fondi non ancora assegnati erano insufficienti per qualunque attuazione del progetto. A metà degli anni 90, la concomitante progettazione della Ferrovia Albano-Lovere-Corna da parte della provincia di Bergamo, poi scaturitasi nella costruzione della Trovia-Lovere-Cividate-Camuno, spinse la Deputazione Bresciana ad optare per un percorso che interessasse solo il suo territorio. Nel 1896, fu affidata la concessione della Pisogni-Breno all'ingegnere Ronchi, ma essa poi decade a seguito della Legge 27 Dicembre 1896, N561, che riduceva la durata delle concessioni ferroviarie e vincolava l'erogazione dei contributi pubblici al momento dell'entrata in esercizio delle strade ferrate. La situazione parve sbloccarsi dopo l'approvazione della Legge 30 Aprile 1899, numero 168, che aveva incrementato il contributo chilometrico governativo a 5.000 lire. L'amministrazione provinciale fece un ulteriore sforzo per incrementare i propri contributi e vi fu l'intervento di quasi tutti i comuni interessati. Il 29 settembre 1900 la provincia di Brescia fece domanda al Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere la concessione della ferrovia. Stando ad accordi fra la provincia e l'ingegnere Ronchi, questi avrebbe fornito il materiale rotabile e costituito una società che avrebbe gestito la linea. Come avvenne con la Brescia e SEO, anche in questo caso il concessionario lasciò scadere i termini di presentazione della cauzione. Per non lasciare decadere la concessione, la provincia interpellò diverse altre società ferroviarie, come Società Veneta e Società Nazionale Ferrovie Tromvie. La proposta di quest'ultima fu considerata ottimale per gli interessi della provincia, per cui, l'11 luglio 1904, il Consiglio provinciale bresciano approvò il passaggio della concessione a SNFT.